... Ok... 12. Se questi sono gli incantesimi giusti, dovrei riuscire finalmente a... Oh, sei tu. Che cosa ti porta qui al mio santuario? Mi serve il tuo aiuto. Quindi, hai detto di essere un re adesso, ma non vedo né scettro né corona. Beh, non sono quel genere di re. Capisco. Allora, vuoi dirmi cos'è successo? Ti preparo del tè se vuoi. Del tè? Come ho già detto, non sono quel genere di re. E va bene. Finalmente cominciai a capire. Adesso ascoltami. All'alba dei tempi, la realtà era molto diversa da come la conosci oggi. Nei nove regni imperavano battaglie, forza, guerre, il caos. Una delle poche certezze in quel periodo erano le valchirie. Delle semidee incaricate da mio padre di guidare i guerrieri caduti in battaglia nel Valhalla, il sacro regno dell'aldilà. Hanno protetto quei guerrieri per millenni. Le valchirie vivevano nelle battaglie nel Valhalla, il perfetto tramite fra vita e morte. Erano l'unica via per molti di raggiungere la vita eterna. Aspetta, erano? Quando sono tornato su Asgard, dopo la guerra dei regni, non ho trovato altro che rassegnazione e disperazione. Dottore, le valchirie sono scomparse. Per questo sono venuto da te. So che puoi fare qualcosa. Valchirie. Come può un'intera legione di semidee sparire così? Servirebbe una forza superiore, come un portale, una dimensione specchio, qualcosa di nascosto ai nostri occhi. Una sorta di... vuoto? Qualcosa in grado di farle scomparire? Ehi! Che... cosa... Ehi, dico a voi! Sì, ascoltatemi! Oh, Ant-Man! Ti avevo detto di non intrufularti nei miei libri di magia. Beh, sì, ma state a sentire questo. Dice, il vuoto primordiale o il varco sbadigliante. Sembrerebbe quello che state cercando. Questo sì che può far sparire qualcuno. Il vuoto primordiale... Ginnunga Gap. Sì? Riempito di pesantezza, ghiaccio e piogge, un maratro infinito. C'era sempre qualcosa del genere nei vecchi miti della mia cultura. Le valchirie devono, devono essere lì. È possibile, ma dubito che quelle guerriere ci siano entrate. Qualcuno o qualcosa deve avercele spinte. Questo lo capiremo una volta dentro. Strange, puoi aprire un portale per il Ginnunga Gap. Aspetta, adesso vuoi buttarti là dentro? Andare da solo è un suicidio. Non ho detto che sarò solo. Allora, è questo il posto? Sì. Bene. Chiunque o qualunque cosa abbia fatto tutto questo, deve pagare. Tenite strette le vostre armi. O dèi. O dèi. Per Asgard. Per le valchirie. Due giorni. Sono passati due giorni, Thor. Sì. Non mi sembra di aver visto valchirie in questo vuoto primordiale. Il dottore Strano ha ragione. Siamo... Strange. È quello che ho detto. Thor, stiamo viaggiando senza una meta. Se davvero vogliamo trovarle, ci servirà un piano. Qui è successo qualcosa. Ma non abbiamo niente. Ehi, mi stai almeno ascoltando. Perdonami. Qualcosa... C'è qualcosa lì. che si sta avvicinando. Devono essere vicine. Me lo sento. Thor? Cosa c'è, Strange? Thor, qualcosa si sta avvicinando. state indietro questa creatura è nel pantheon norreno sono sicuro si chiama sì, questo è il Mare Thor aspetta, c'è una cosa che devi vedere Loki Il Pivot Il Pivot Il Pivot Grazie a tutti. Grazie a tutti.